La Regione Piemonte partecipa a questo progetto con due strutture, il settore difesa del suolo al quale appartengo e il settore protezione civile, quindi due strutture impegnate a occuparsi di questo tema che riguarda in generale gli sbarramenti artificiali per l'accumulo idrico. Questo progetto RESBA è praticamente una prosecuzione, implementazione di attività che erano già state avviate e concluse entro il 2015 con il progetto RESBA. Le attività del settore difesa del suolo sono rivolte alla vigilanza e al controllo della corretta gestione degli sbarramenti artificiali per l'accumulo idrico di competenza regionale, oltre che diverse attività sugli sbarramenti nazionali che sono controllati dal Ministero delle Infrastrutture. Per quanto riguarda gli sbarramenti regionali, sono quelli che hanno degli sbarramenti di un'altezza massima di 15 metri, fino a 15 metri, e una volumetria che arriva fino a un milione di metri cubi. Su questi sbarramenti, così come era già stato iniziato nel progetto RESBA, si sta proseguendo a un'implementazione di attività che riguardano il monitoraggio, il corretto monitoraggio di queste strutture, che possono essere strutture di accumulo idrico in zona pianeggiante, in zona prealpina, collinare, in zona alpina a quote molto elevate. Questi sbarramenti sono, rispetto a strutture, quali quella della diga del Moncenisio, che può arrivare fino a 320 milioni di metri cubi, molto ridotte. Però sono molto diffuse in Piemonte, perché finora, negli anni in cui la regione Piemonte si è occupata del tema, finora ne abbiamo raccolte con diversi censimenti, di praticamente 800 in tutto il Piemonte. Se si pensa che ci sono 800 sbarramenti regionali e 56 sbarramenti nazionali, si capisce che comunque il tema è un tema molto importante, un tema da affrontare, perché sono molto diffusi. Questa diffusione fa sì che, seppur con limitate dimensioni, con limitate volumetrie, si possano trovare in differenti zone e in zone molto e anche densamente popolate. Quindi al di sotto di questi sbarramenti c'è sempre la possibilità di avere o delle infrastrutture o delle cittadine che potrebbero essere interessate da allagamenti se dovessero verificarsi delle anomalie di ritenuta di questi sbarramenti stessi. Queste attività quindi vanno a supportare le attività che normalmente compie il settore difesa del suolo, cioè questa vigilanza della corretta gestione e vanno ad analizzare differenti parti, parti strutturali, parte di ritenuta, di impermeabilità di queste strutture che in gran parte, il 90% in Piemonte, sono fatte con degli sbarramenti in terra, dei rilevati in terra costipati, di solito costruite negli anni 60, quindi hanno già un certo numero di anni di vita e che sono gestite per differenti usi, cioè soprattutto l'irriguo, potrebbero essere l'idroelettrico, in alcuni casi potrebbero essere usi ricreativi. Queste attività quindi vanno ad analizzare la vita di questi sbarramenti, le tipologie per andare a individuare quali possono essere le strumentazioni migliori per poter tenere sotto controllo la ritenuta, la stabilità di queste strutture, la corretta trattenuta dell'acqua di queste strutture e tutto quanto quello che poi con l'implementazione di Resba potrebbe anche essere utile per poter arrivare alla redazione di piani di emergenza, di piani di protezione civile comunali specifici che vanno a definire le azioni di diversi attori e in particolare delle autorità di protezione civile per far fronte a eventuali eventi anomali o imprevisti che potrebbero avvenire.